salve a tutti oggi vi ho portato a un progetto molto carino molto bello veloce semplici da fare porta torte o porta pizze o porta tegame è una lavorazione veloce molto semplice da fare andiamo a vedere cosa ci occorre per farle io ho preparato i bigliettini con le misure che ci occorrono per il manico ci vuole 8 cm x 44 cm ci vuole la stoffa colorata sempre 79 x 44 il mollettone 79 x 44 è un metro di nastro per decorazione di cotone ovviamente per stirarlo ci vuole forbici un bastuccino per svoltare gli angoli le spille e la fede ha nello stesso comunque la federa e il mollettone e il pezzo di stoffa colorato hanno la stessa misura 79 x 44 la prima cosa che facciamo andiamo a cucire le manici e andiamo a spegnare le passiamo la macchina e svoltiamo le qua facciamo una cucitura allungo vedete come facile e usiamo questo bastoncino per svoltarle qua vi faccio vedere un trucchetto che faccio io lo cucio dalla parte superiore e allungo e poi mi viene facile da svoltarle mettendo il bastoncino nella parte cucita poi le svolto è molto facile è meglio e vederle che a dirlo vado a ricucire sopra i manici così lo do un sostegno e poi andiamo a fissarle nella nostra porta ed è un lavoro molto facile qua ho 44 quindi faccio la metà che sono 22 e marchio con lo spillino e il centro della nostra lavorazione poi prendo 6 cm di un lato e se dell'altro lato vedete e poi li attacco i manici così mi viene il lavoro facile li attacco tutti due vedete faccio anche l'altra parte è un lavoro velocissimo veramente anche da regalare o da vendere e si fa all'ultimo veramente facilissimo basta avere lì il corrente la stoffa e si fa e velocemente li attacchiamo i manici e adesso prendiamo la federa e andiamo a coprire il tutto lo fissiamo con delle spille per bene abbiamo le stesse misure se della federa si è della stoffa colorata sia del mollettone quindi il lavoro più facile qua andiamo a fare una cucitura a lungo lasciamo una parte aperta e poi finiamo la cucitura andiamo sotto macchina gli daremo un colpo di di macchina e il gioco è fatto siamo attenti agli spilli magari le tiriamo via quando cuciamo ecco togliamoli tutti e andiamo a pulire tirando via tutte le cesto della stoffa in più così non quando lo svoltiamo non non fa ingombro togliamo tutto e lo svoltiamo anche gli angoli poi dopo quando lo svoltiamo andiamo a dare un colpo di di colpo di ferro da stiro così impiattiamo un po magari quando lo svoltiamo ci aiutiamo con questo bastoncino da tirare fuori tutti gli angoli e il gioco è fatto vedete che eccoci qua tutti gli angoli fuori adesso viviamo un colpo col ferro da stiro e andiamo ancora sotto macchina per chiudere la parte che abbiamo lasciato aperta per svoltarlo e poi attacchiamo anche il nostro nastro di pizzo e sarebbe meglio di cottone così quando lo stiriamo non si rovina e questo il nostro porto a torte a portategame o porta pizze tutto di cottone lavabile in lavatrice stirabile più di così veramente carino molto bello e veramente ci vanno molto questi qua piacciono a tutti io qua ho 18 centimetri così lascio un po di apertura così per daremo un po di spazio apparsi che la misura che ho dato è molto grande per un tegame anche per una tele è molto molto grande quindi ci sta anche anche per esempio il cartone delle pizze ci stanno anche 5 6 quindi ci sta benissimo adesso andiamo sotto macchina le damo da cucire diamo un colpo da cucire nel gioco è fatto vedete come è bella io l'ho finita dato anche un colpo di ferro da stiro ho lasciato questa apertura così è veramente carina e bella da regalare perché no anche un progetto da vendere molto molto bella ho fatto anche le prove e anche il colore della stoffa è stupendo spero che vi piaccia il video se vi piace lasciatemi un like condividete il video con i vostri amici parente e noi ci vediamo al prossimo video vi lascio con le foto che ho fatto anche con delle altre con fatto